Bentornati, oggi video un po' di emergenza, infatti vedete che sono nella vecchia location, non ho potuto organizzare il solito set, ma non volevo perdere questa occasione perché solo pochi giorni fa ho fatto un video nel quale spiegavo perché non mi piace il jazz pur riconoscendo la grandezza di alcuni musicisti jazz. E come dire, pochi giorni dopo ci troviamo alla scomparsa di Quincy Jones e di fronte a un gigante come Quincy Jones, una personalità così enorme, così influente e così radicata anche nella musica degli ultimi 70 anni, non potevo non fare un video. Per cui perdonerete una minore attenzione al dettaglio rispetto al solito, ma insomma preferivo parlarvi immediatamente con voi di questo grande, grandissimo artista. Anche se parlare di Quincy Jones esclusivamente in chiave jazz è sicuramente riduttivo. Per i primi 20 anni la sua carriera abbondante si è occupato quasi esclusivamente di jazz e poi facendo seguito a quella che secondo la mia personalissima opinione, per quello che può valere, è la più grande qualità di un musicista, cioè la versatilità, si è dato a diversi generi musicali, ottenendo grandi successi in tutti questi generi musicali e oltretutto traendo enormi fortune economiche da tutti questi generi musicali. Per cui questa cosa vuol dire da un lato un musicista con la M maiuscola e dall'altro anche un eccellente imprenditore, un eccellente manager di se stesso come bene o male devono essere tutti i musicisti oggi, ecco lui lo era già nel secolo scorso. Oggi parliamo appunto di Quincy Jones. Quincy Jones nasce nel 1933 in uno dei quartieri più degradati di Chicago, più violenti, più malfamati, un vero e proprio ghetto, tant'è vero che sembra incredibile ma lui dirà che il primo uomo bianco lo vedrà che aveva praticamente 11 anni, viveva in una specie di ghetto. In una situazione economica la famiglia sicuramente non particolarmente florida, ma soprattutto con due grosse questioni che condizioneranno tutta la sua vita. La prima è il rapporto con la madre, la madre soffrì di schizofrenia e fu praticamente portata via in un ospedale quando Quincy aveva pochi anni, tipo 5-6 anni. Poi questa figura tornerà nel tempo, nella vita di Quincy Jones, ma lui dirà sempre di essere cresciuto fondamentalmente senza una madre. Dall'altra parte c'è il suo essere di colore in una città degli anni 30 come Chicago e sua nonna era un'ex schiava, per cui insomma capite che stiamo parlando di un qualcosa che lui ha toccato veramente, se non con mano sicuramente, come dire, nella sua modo di essere e nella sua percezione del mondo esterno, questa cosa lo condizionerà moltissimo. Tant'è vero, ne parlerò più avanti nel video, lui è stato un importante attivista per i diritti degli afroamericani, anche se, come dirà Obama una volta di lui, sempre fatto con grace, con garbo, ecco non fu mai un violente, non fu mai un ultranzista, però per tutta la vita fu un fautore e soprattutto un sostenitore dei diritti degli afroamericani. Comincia a suonare a circa nove anni un vecchio pianoforte che trova e capisce subito che quella è la sua via, anche perché nel quartiere in cui è nato non ci sono tantissime opzioni professionali, tantissime, come dire, cose da fare, se non diventare esattamente come tutti quegli eroci con uno dei gangster fondamentalmente. Quindi lui dirà sempre, insomma, che lui era destinato a fare il gangster, probabilmente a morire anche giovane, in qualche maniera magari anche violenta, e invece per sua fortuna e per nostra fortuna vivrà di musica. Quindi comincia a suonare subito il pianoforte, a quattordici anni incontra un ragazzo che ha tre anni più di lui, che suona molto bene il pianoforte, non vedente, un certo Ray Charles, che però ripeto, se non parlo di Ray Charles ha diciassette anni, quindi non era ancora Ray Charles, i due si conoscono, diventerà un rapporto loro strettissimo che durerà tutta la vita e ci sarà sempre, insomma, come dire, un rapporto fratello maggior, fratello minore, dato appunto che avevano solo tre anni di differenza. Quincy Jones impara a suonare molto bene la tromba e con questo duo comincia a girare, a fare i suoi primi concerti. Non frequenterà mai un corso di musica regolare, come alla fine era tipico, insomma, dei jazzisti, soprattutto della sua generazione, e ciò nonostante 18 anni ha la possibilità di andare al Berklee College of Music, una delle scuole più importanti d'America, a Boston, grazie a una borsa di studio, perché ovviamente la famiglia non sarebbe stata in grado di provvedere a mantenerlo in questo corso di studi, vince la borsa di studio, ma dopo pochi mesi lascia al Berklee per seguire Lionel Hampton in un lungo tour. Non neanche particolarmente retribuito, ma starà quattro anni in tour con Lionel Hampton, suonando la tromba e imparando tutto quello che c'è da imparare per vivere di questo lavoro. E' in questa fase che comincia, è un ottimo suonatore di tromba, ma non è un fuoriclasse. E' perfettamente consapevole di questa cosa, sa benissimo di non avere nella tecnica, nel talento, non so, di un Dizzy Gillespie, ad esempio, quindi sa bene che, pur essendo un eccellente musicista, forse non è la tromba il suo vero talento. Ed è proprio in questi quattro anni in tour con Lionel Hampton che inizia a comporre, soprattutto ad arrangiare. E piano piano la sua fama di arrangiatore si espande. E tutti i più grandi jazzisti di quell'epoca vogliono lui come arrangiatore. Pensiamo a Cambesi, a Saravoga, a Jim Krupa, a Dizzy Gillespie, all'amico Ray Charles, insomma, tutti vogliono che Quincy Jones faccia per loro gli arrangiamenti. E tenete presente che siamo parlando di un ragazzo che ha poco più di vent'anni. Quindi per diversi anni incide tantissimi dischi e dirige ovviamente l'orchestra e gli arrangiamenti che fa lui. Dopodiché sente che un qualcosa gli manca. Gli manca la tecnica degli archi, che normalmente ovviamente nelle big band non erano presenti, erano presenti molto raramente e solo in alcune. Però mediamente, insomma, non faceva parte, il violino, o comunque mediamente, gli spiriti d'arco non facevano parte della tradizione di quel tipo di jazz. Nel 1957, a 24 anni, va a Parigi a studiare niente poco di meno che con Nadia Boulanger e con Olivier Messiaen. Nadia Boulanger, se non la conoscete, approfondite, approfondite l'argomento. Magari potrei un giorno anche farci un video. perché è stata, oltre a una grandissima concertista, ma è stata l'insegnante di una quantità di musicisti infinita, sterminata. Si può dire che tutti i più grandi musicisti del Novecento abbiano studiato con lei. E quindi lui studia con lei e le spiega proprio il fatto che lui vuole conoscere bene l'orchestra classica, in particolare in pratichirsi degli archi. Quindi anche a Parigi, anche a Parigi la sua fama di arrangiatore e di orchestratore comincia a farsi largo. In più a Parigi trova un ambiente più cosmopolita dove anche il fatto che lui sia un afroamericano è sicuramente più accettato paradossalmente che negli Stati Uniti per cui lui si trova molto a proprio agio. E la sua fama di arrangiatore lo porta a fare oltre 200 arrangiamenti in poco meno di due anni. Quindi tanti. Siamo parlando di uno ogni 3-4 giorni, qualcosa del genere. E poi lavorerà anche per Rasnavur, lavorerà per Jacques Borel. Insomma, non solo. Questa sua fama si espande finché gli viene dato addirittura un programma televisivo che però non ha grande fortuna e quindi da un momento all'altro dopo un paio di settimane di questo programma televisivo lui si trova con questa enorme massa di musicisti che aveva oltretutto contattato lui fondamentalmente a spasso. Aura decide di prendere su di sé forse la sua prima attività imprenditoriale prende su di sé questi musicisti e organizza un lungo tour per l'Europa. Stanno quasi due anni in tour ma è un tour molto costoso portando in giro ovviamente una big band e tutti i tecnici e insomma tutte le persone che servono a un tour del genere per cui alla fin fine Quincy Jones ne esce con le ossa finanziariamente rotte accumula un debito di oltre 150.000 dollari e stiamo parlando degli anni 60 quindi insomma una cifra abbastanza importante e capisce che è il momento di tornare a casa. Tornando a casa va a lavorare per la Mercury che ai tempi era una casa discografica molto importante e cosa curiosa lui dirà che quello praticamente era stato il suo primo e forse unico vero lavoro perché è un lavoro praticamente di ufficio se vogliamo è un lavoro in cui tra le sue mansioni c'è anche quello di fare il talent scout di ascoltare i cantanti ascoltare le nuove proposte ascoltare le canzoni e scegliere quali possono andar bene e quali no arriverà fino alla soglia della vicepresidenza e sarà il primo afroamericano a essere vicepresidente di una major appunto la Mercury così come sarà il primo afroamericano anni dopo a essere ad avere una nomination agli Oscar per la per la migliore canzone originale e non sarà l'unico primo afroamericano a fare determinate cose le vediamo più avanti lavora quindi come come talent scout per la Mercury comincia anche a fare il produttore e ora affrontiamo il discorso della produzione e la prima canzone che sceglie è It's My Party la 64 che diventa subito una hit prima in classifica e come dire comincia decisamente bene il suo lavoro il suo lavoro negli Stati Uniti va talmente bene che la sua fama si espande decisamente al di là del jazz e un giorno lo chiama niente proprio di meno che Frank Sinatra e gli propone gli fa una proposta che non poteva rifiutare gli propone di diventare il suo arrangiatore e il direttore l'orchestra lavoreranno insieme con Sinatra per parecchi anni incideranno molti dischi faranno tantissimi concerti e tra i due si creerà un vero e proprio sudalizio e anche una forte amicizia però Quincy Jones si ribella subito a certe logiche pensate per esempio che lui così come altri musicisti di colore siamo negli anni 60 a Las Vegas suonavano nei posti più importanti erano anche ben retribuiti però non potevano mangiare in quei gli stessi alberghi dove suonavano e qui c'erano dei posti per loro separati ecco stile stile a parte dove potevano andare a mangiare a dormire quindi potevano suonare esibirsi lì essere anche ben pagati ma non ma non mangiare in quel ristorante c'è tra l'altro un bel film Green Book che vi consiglio di vedere su questa situazione che è veramente molto molto bello erano anche gli anni in cui le big band di afroamericani che andavano in tour dovevano avere come autista un bianco perché quando si fermavano nelle varie città e andavano appena a mangiare doveva andarci l'autista bianco perché se fossero andati loro non gli avrebbero probabilmente dato da mangiare lavora tantissimo con Frank Sinatra ma poi lavorerà con tutti i più grandi con Barbara Streisand non c'è praticamente uno dei grandi della musica degli ultimi 70 anni che non abbia in qualche maniera collaborato con lui nel 64 inizia una nuova fase della sua carriera vuole iniziare a scrivere colonne sonore e anche questa è una cosa assolutamente inedita per un per un afroamericano lui parla con il suo amico Henry Mancini e gli dice ma secondo te un afroamericano può scrivere colonne sonore e Mancini dice perché mai non dovrebbe poter comporre sei bravo sei in gamba e quindi se John se era in gamba e come lo può fare come lo può fare e lo fa e nel 1964 inizia una fiorente carriera una fiorente attività di compositori di colonne sonore iniziando con un film di Sidney Lumet e poi ne farà una trentina di colonne sonore e quindi per diversi anni si dedicherà solo e esclusivamente alle colonne sonore nel frattempo intorno ai 40 anni viene colpito da un forte aneurisma e rischia veramente rischia veramente la vita si deve sottoporre a ben due interventi chirurgici molto rischiosi in cui i medici gli davano una possibilità dell'1% di uscirne di uscirne non con i piedi davanti e invece lui ce la fa e recupera fa la fisioterapia e riesce a rimettersi perfettamente a rimettersi completamente e perfettamente e nuovamente incarreggiata tenete presente che lui aveva dei ritmi di lavoro forse nati cioè lui era uno di quelli che vivono nel proprio lavoro proprio cioè non aveva nient'altro in mente che il lavoro e anche le donne insomma però ecco insomma era uno di quelli che lavorava tante tante ore al giorno e non per niente insomma passerà attraverso una serie di matrimoni che prima o poi fatalmente finiranno avrà ben sette figli da quattro donne tre sposata e una no tale Nastasja Kinski tra l'altro a proposito delle colonne sonore lui scriverà la colonna sonore del colore viola che è una delle poche colonne sonore di Spielberg le cui musica non siano state fatte da John Williams e quindi veramente in cima in cima al mondo la sua fama di compositore e di arrangiatore e di produttore è veramente ai massimi livelli ecco tenete presente una cosa importante quando in musica si parla di produttore è una figura diversa dal produttore per esempio cinematografico almeno una volta oggi non è più così ma fondamentalmente era quello che metteva i soldi era quello che rischiava economicamente era il padrone della baracca e se il film andava bene guadagnava un sacco di soldi se il film andava male perdeva una barca di soldi il produttore musicale è un'altra figura sì che in certi casi può anche produrre finanziariamente un progetto ma nella maggior parte dei casi è come dire il direttore artistico di un progetto quindi quando vedete che un disco è prodotto da tizio vuol dire che tizio ha curato tutta la genesi artistica di quel progetto e ne ha curato le registrazioni spesso gli arrangiamenti o ha suonato o ha deciso lui quali musicisti avrebbero suonato insomma come dire la paternità artistica del progetto è sua e lui produce così tanti artisti e così tanti successi che tutti vogliono lavorare con lui ma ovviamente lui non può lavorare con tutti perché la giornata è fatta di 24 ore perfino Michael Jackson all'inizio di carriera si rivolge a lui dopo che hanno collaborato a un progetto perché sta cercando un produttore per il suo nuovo disco capiamoci tra i due tra Michael Jackson e Quincy Jones quando sono incontrati la star era Quincy Jones Michael Jackson era un cantante conosciuto non ancora nella sua carriera solistica ma perché facendo parte dei Jackson 5 e va bene aveva avuto già un buon successo ma la star dei due era indiscutibilmente Quincy Jones tant'è vero che Michael Jackson neanche ha coraggio di chiedergli vuoi produrre il mio disco il mio prossimo disco gli chiede un aiuto per trovare un produttore alla fine Quincy Jones si convince della bontà del progetto di Michael Jackson e dice va bene te lo produco io il tuo disco il primo disco che fanno insieme è Off The Wall ha un successo enorme e vende più di 30 milioni di dischi niente in rapporto a quello che venderà con Thriller che probabilmente sapete che è l'album pop più venduto della storia che supererà i 100 milioni di copie vendute e poi produrrà anche Bad qualche anno dopo che comunque supererà i 40 milioni di copie per cui come potete immaginare la casa di Quincy Jones è un museo di dischi d'oro di platino e di fotografie con tutti i più grandi con tutti i più grandi artisti del mondo grandi artisti che Quincy Jones perché tutti danno come dire la patente alla cosa a Michael Jackson che era vero che era stato il promotore ma Quincy Jones raduna tutti gli artisti del famoso We Are The World canzone che non per niente prodotta da Quincy Jones scritta da Michael Jackson e da Lionel Richie però prodotta appunto da Quincy Jones e che sarà l'ennesima come dire l'ennesimo progetto di charity l'ennesimo progetto di beneficenza a cui lavorerà insieme a molti altri nel corso della sua nel corso della sua vita ha 81 anni ha un coma diabetico e se la passa veramente veramente male anche lì sembra che stia lì per per andare all'altro mondo ma anche questa volta la sfanga e camperà ancora più di 10 anni continuando a lavorare continuando ad essere oltretutto uno scoprettore di talenti tra cui Jacob Collier uno dei più grandi talenti credo che ci siano sulla piazza negli ultimi 15 anni e quindi continua comunque a fare anche la talent scout continua a produrre artisti continua a scoprire talenti e continua a dare a ragazzi di enorme talento enormi enormi possibilità ecco perché conosce e frequenta i più importanti personaggi non solo della musica ma anche della politica di tutto il mondo una delle ultime cose che organizza è un museo della storia fondamentalmente afroamericana per far guadagnare dice lui soprattutto ai giovani la consapevolezza del passato e soprattutto una costruzione del futuro migliore di quella che tanti afroamericani anche nel campo musicale voi sapete che nel campo dell'hip hop e del rap spesso insomma la cosa i rapporti tra cantanti finivano a colpi di rivoltella e a funerali e questa è un'altra cosa nella quale lui interviene collabora anche con artisti rap per cui una mentalità musicale veramente a 360 gradi una musicalità enorme una capacità di immaginare mondi sonori pazzesca che fosse un pezzo di jazz che fosse l'arrangeamento di una canzone che fosse una colonna sonora che fosse un progetto di qualunque altro tipo voi lo vedevate lì con la matita e la carta assorto a scrivere a comporre ed arrangiare per cui una figura talmente titanica talmente importante talmente determinante che non potevo non dedicargli un video apposito e mi scuserete insomma se oggi come dire è magari un po' meno curato del solito però veramente di fronte ai musicisti così giù il cappello se non l'avete ancora fatto dovete lo sapete iscrivervi al canale perché ancora tanti di voi non sono iscritti al canale ma lo seguono a voi non camminete ma per me è molto importante lasciate un like se il video vi è piaciuto lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video non mancate